Lui tentava di individuare qualcosa che al di là della denuncia davvero fosse utilizzabile anche per rafforzare i diritti umani. Trovò questo strumento nella elaborazione del diritto e dei diritti dei popoli. Convocò a Ginevra molti giuristi a lui vicini, elaborarono una serie di diritti che lui poi volle presentare in una conferenza internazionale che convocò per il 4 luglio del 1976. Lui volle mettere insieme ad Algeri, cioè in una capitale del cosiddetto terzo mondo, quella carta, quella dichiarazione universale dei diritti dei popoli, per mantenere una soggettività dei popoli anche diversa da quella del rappresentante statale, soprattutto quando magari lo Stato è diretto o presieduto da dittatori o da governi che non rappresentano effettivamente i propri popoli. Dobbiamo riaffermare con forza il principio che i popoli, cioè gli uomini reali che li compongono, costituiscono il dato di base della vita collettiva e perciò della collettività internazionale. Questa collettività dunque, prima ancora di essere una comunità di Stati, è una comunità di uomini e di popoli.